controllo rivolo Apollo 13 attenzione datemi un go no go per il lato vettore il numero 13 non mi fa nessun effetto solo se cade di venerdì Apollo 13 partenza alle ore 13 e 13 minuti ok ragazzi si va sulla luna la prossima trasmissione sarà sulla superficie della luna qui Houston potete ripetere Houston abbiamo un problema quindi qui Grazie a tutti. Musica La conoscenza mi porta ad amarti e l'amore mi porta a servirti ogni giorno di più, Gesù solamente. E al termine della mia giornata terrena, l'essere stato capo, mi sia di lode e non di condanno. Amo. Scusate, mi sono la benedizione. Grazie. Grazie.